buongiorno a tutti oggi mi trovo a lugano in centro e sono qua per mostrare un appartamento di due mezzo locali mi trovo al secondo piano di uno stabile di tre piani che è completamente in fase di ristrutturazione stabile storico del centro di lugano eccoci qua due mezzo deve ancora essere terminato manca la cucina lì si vedevano gli attacchi comunque si accede direttamente nel salotto salotto di 22 metri quadri qua verrà la futura cucina aria condizionata all'interno di tutti gli appartamenti quindi corridoio di circa 6 metri quadri che porta alla stanza e poi al bagno stanza eccola qua stanza di circa 11 metri quadri quasi 12 quindi il bagno che è completo di abbiamo l'attacco della lavatrice lavabo con cassettiera specchiera fissa là in fondo si trova il box toccia ampio box toccia quindi bidet e lavabo superficie totale dell'appartamento di circa 46 metri quadri ed eccoci nuovo qua è tutto contattateci per ottenere maggiori informazioni e magari a venire a visitare personalmente l'appartamento grazie a tutti viverti